Quando si dice una parata che vale un gol, alla fine quella respinta, all'ultimo minuto, come ce la racconti? È stata una partita difficile, quella parata era da fare e sono felice di averla fatta. Come hai visto la partita? La partita l'ho vista molto competitiva, da parte sia della Roma che da parte nostra. Tutte e due cattive, siamo andati su tutti i palloni perché siamo una squadra. È questo il motivo in più per cui siete riuscite a vincere? Sì, io credo che anche la Roma sia una squadra, non la mettono sicuramente in dubbio, ma noi lo siamo stati fin dall'inizio e non l'abbiamo mai mollato anche se eravamo molto stanche.